Triclignium officia. Antelocana trichila lusso de triclini e cucina utensili di cucina inservienti di cucina camino. V erano camini allora? Latrina loxisto il critto porticolo sferisterium, la pinacoteca il balineum la laiatorium la cella binaria piani superiori e recentissima scoperta coenacula la casa a tre piani i balconi e la casa del balcone pensi le case principali. in Pompei casa di villeggiatura di M al rio di Omede la famiglia principio costitutivo di essa la nascita del figlio cerimonia e la nascita della figlia potestas, meinas, mancipium minima, media, maxima diminutio capitis. Matrimoni, per confarreazione, uso, coempzione trinoctium usurpatio diritti della potestas, della meinas, del mancipium magnati, consanguinei cognatio matrimonium, connubium sponsali età del matrimonio. il matrimonio e la sua importanza bigamia impedimenti concubinato divorzio separazione di farreatio repudium la dote donatio propternuptias nozioni sulla patria podestagius trium liberorum adozione tutela curatela gli schiavi cerimonia religiosa nel. loro ingresso in famiglia contuberni un miglioramento della condizione servile come si divenisse schiavo mercato di schiavi diverse classi di schiavi trattamento di essi numero come si cessasse di essere schiavi i clienti pasti e banchetti romani invocazioni al focolare ghiottorni e leggi alla gola l'unculo e le sue cene cene degli imperatori ientaculum, brandium, merenda, coena, commissati o conviti pubblici cene sacerdotali cene de magistrati cene de triumfanti cene degli imperatori banchetti di cerimonia triumviria e pulones dapestriclinio le mense suppellettili fercula piogge odorose abito e toletta da tavola tovaglie e tovaglioli il re del banchetto tricliniarca coena recta primo servito sicanda mensa pasticcerie e confetture le posate arte culinaria apiccio manicaretto di perle vini novellio torquato milanese servi della tavola cocos lectisterniator nomenclator praegustator stracter caesar carptor pincerna pocillator musica alle mense ballerine gladiatori gli avanzi della cena le lanterne di cartagine la partenza de convitati la toletta duna pompeiana le cubicula reese le cosmete le calamistrae ciniflones cinerarii la pse che i denti la capigliatura lo specchio punizioni della toaletta le unie i profumi mundus muliebrisi saluti gerulile venera e sandali gerule vesti spliche ornatrice sabiti e abbigliamenti vestiario degli uomini abito de fanciulli la bulla vestito degli schiavi i lavori del gineceo 57 capitolo ventunesimo i lupanari gli ozgeri e di capo alla prostituzione riassunto storico della prostituzione antica prostituzione ospitale sacra e legale la bibbia ed eroldo togli angeli e le figlie degli uomini le figlie di loz soldo ma e gomorra tamar legge di mosè zambri asa sansone abramo giacobbe gedeone rapille vita di e frame david bezzabea la moglie di nabal e la sunamite salomone e le sue cang cuba in prostituzione in israele ossi profeta i babilonesi e la dea milita venere e adonea starte le orge di mitra prostituzione sacra in egitto ram sete e ceope cortigiane più antiche rodope cleina stratonice irene agatoclea prostituzione greca dicterion ditteriadi auletridi eteri eteri celebri aspasia safo e l'amor lesbio la prostituzione in italia la lupa di romolo e remo le feste lu per cali baccanali e baccanti la cortigiana flora e i giochi florali culto di venere in roma feste a venere mirtea il pervigilium veneris traduzione altre cerimonie nelle feste di venere i misteri di iside feste priapei canzoni priapei emblemi iti fallici abbondanti in ercolano e pompei raccolta pornografica nel museo di napoli sue vicende oggetti pornografici dercolano e pompei i misteri della dea bona degenerazione dei misteri della dea bona culto di cupido mutino per tonda perfica prema volopia lubenzia tolano eticone prostituzione legale meretrici forestiere cortigiane patrizia e licenzia stupri prostitute imperiali adulterii bastardi infanticidi supposizioni ed esposizioni di infanti legge giulia de adulteris le famose la lesbia di catullo la cinzia di properzio la delia di tibullo la corinna di ovidio ovidio giulia e postumo agrippa la licori di cornelio gallo in costanza delle famose le sciupate di orazio la marcella di marziale e la moglie petronio arbitro e il satiricanturno la prostituzione delle muse giovenale e il linguaggio per gesti commessazione smeretrice se prostibule procede alicarie blittide bustuarie casorite coppe diobole quadrantarie foranee vaghe summeniane le delicate singrafo di fedeltà le preciose ballerine e ludi crescente cinedo e tiria precisa in pompeii pueri meritorii spadones paedicones cinedile non numero dei lupanari in roma lupanare romano meretrici un nome infiltri amatori stabula casa orium lustrum gana un lupanari pompeiani il lupanare nuovo i cucoli postriboli minori 165 capitolo 22esimo la via delle tombe estremi uffici ai morenti la morte conclamati o credenze intorno all'anima e dalla morte gli elisi e il tartaro culto dei morti e sua antichi tagli dei mani denunzia di decesso tempio della dea libitina il libitinario pollinctores la toaletta del morto il triente in bocca il cipresso funerale e suo significato le immagini degli dei velate esposizione del cadavere il certificato di buona condotta con vocazione al funerale ex equi e funus publicum indicti boom tacitum gentilitium il mortoro i siticini i tubicini le prefiche la menia piatrice saghe ex piatrice simpulatrice i popi e i vittimari le insegne onorifiche le immagini dei maggiori i mimi e l'archimimo sicilia amici e parenti la lettiga funebre i clienti gli schiavi e i familiari la red all'orazione funebre origine di essa il rogo il busto un l'ultimo bacio e l'ultimo vale il fuoco alla piramun era l'invocazione ai venti legati di banchetti annuali e di beneficenza decursio le libazioni i bustuari ludi gladiatori l'austrina il sepolcro comune l'epice dio no si legge m l'urna suffitio il congedo monumentum vasi lacrima torgerie fori nelle tombe cremazione i bambini e i colpiti dal fulmine sub grundarium silicernium visceratio novem dialia denica le sferie funerali dei poveri sandapila puticuli purificazione della casa lutto pubblico e privato giuramento commemorazioni funebri feste parentali feralia le muralia inferiei sepolcri sepolcrum familiare sepolcrum comune sepolcro ereditario cenotafii colume leocitti mensae labbra archecampo sesterzio in roma la formula tacito nomine prescrizioni pe sepolcriar peisagri fizgei leggi mortuarie e intorno alle tombe punizioni de profanatori di esse via delle tombe in pompei tombe di m cerrinio e di avigio emiciclo di mamia cipi di m porcio venerio epafrodito istacidia istacidio campano melisseo apro e istacidio menoico giardino delle colonne in mosaico tombe delle ghirlande albergo e scuderia sepolcro dalle porte di marmo sepolcreto della famiglia istacidia a misura del piede romano la tomba di nevo leviatiche e di munazio fausto urna di munazio atimeto mausoleo dei due libella e il abeone 5 scheletricolo mellea io comune a salvio fanciullo a velasio grato camera sepolcrale di cn vibrio saturnino sepolcreto della famiglia arrea sepolture fuori la porta no lana deduzioni 285 conclusione 371 appendice prima i busti di bruto e di pompino 383 appendice seconda l'eruzione del vesuvio del 1872 391 sonetto a pia curti di picco minazzi 419 indice delle incisioni sparse nell'opera 421 indice generale 423 fine dell'indice note 1 saturn i 1 2 pompeia pag 136 3 pag 9 4 sat 6 o villa e quando io rivedrò ti trad gargallo 5 lib 3 22 terra nata dell'armi all'alta gloria non al crudo terror trad vismara 6 and 2 trattino 14 quelle targhe e perti che sconce de barbari fra le macchie e gli alberi non valere come i lanciotti e le spade e la settata armatura tirassero di punta spesso al viso punto tr di bernardo d'avanzati 7 lib 9 c 8 tit live lib x x x x v 2 e 23 9 rosini antico it roman lib x capitolo 4 10 lib 7 capitolo 4 11 discipline natist lib x 5 12 sc 2 16 osserva dapprima qual regime abbiano gli eserciti nostri quindi qual fatica e quanta cibaria portino in campo per mezzo mese ed attrezzi d'uso però che è il portare il palo lo scudo il gladio e l'elmo i nostri soldati non continuo nel peso più che gli omeri le mani e le altre membra afferma nessi le armi essere le membra del soldato le quali così agevolmente portano che dove ne fosse il bisogno gettato il restante peso potrebbero colarmi come colle membra proprie combattere punto 13 ip 57 14 nelle nostre province massime nella bresciana esiste un pane dolciato che si chiama bussola dal bocellatum romano ma il bocellatum come esprime il nome era nel mezzo bucato onde portarlo all'uopo sospeso o infilzato viaggiando sull'asta 15 ed aste scisse in quattro parti e pali accuminati giorgica 2 v 25 16 ist romlib per 16 17 muovendo aquile insegne aste latine contro latine insegne aquile ed aste li vivo 7 trad del conte francassi 18 arandi fieno ma quel fieno il stesso da ciascun risco te ha tanto rispetto quanto la qui la tua ne esige adesso si stava in cima a lungo palo eretto un manipol di fieno onde di fanti certo drappel manipolar fu detto trad di gb bianchi 19 tacito an 15 29 20 svetonio in vespasiano 6 21 libri 43 22 de bello yogurt l xv 23 la tessera dà il segno ove di guardia scritte son le veci punto lib x 24 giust lips de millet rombo 9 25 lib 4 279 or del tardo pastore entro le mura la bucina risuona 26 lib 11 4 175 e già la roca tromba ne va per la città squillando della battaglia il sanguinoso accento tr anni balcaro 27 non la tuba diretta e non il corno di ricurvo metal 28 v 734 con il corno ricurvo il richiamo squillo e il lituo adunco colla stridula voce i suoni emise 29 te bai ed 278 sudian per tutto rimbombare i vuoti bossi e di bronzo i timpani sonanti trad di selvaggio porpora sud del cardinal guido ventivoglio 30 dian dali carnet 273 31 servio x 14 32 vol capitolo terzo 33 trad di felice bellotti 34 così cicerone nel lib 2 divin 34 attuali tin cave pullos is qui ex io nomina tour pullarius 35 35 portò nel sotterraneo i polli quelli che per tale affigino dicesi appunto pullario punto 36 varie iscrizioni lo attestano grutero riferisce sotto il numero 557 6 la seguente m pompeio mf ani aspro 7 leg 15 apollinari salimetus lib pullarius fecit e muratori sotto il numero 7 188 4 la seguente l avilius lf asperino spullarius leg 6 claudie 37 non avere gli abbastanza atteso per avviso de pullari agli auspici punto 38 legale curve mura una corona fortificata 39 lib 3 7 con duplice corona di fanti circondano la città e pongono una terza fila di cavalleria esternamente punto 40 the architect lib x c 15 41 lib 20 in questa persuasione il soldato percoteva con l'asta lo scudo facendo grande strepito quasi un uomo approvava i detti e di fatti punto 42 in grecia questo inno sacro del trionfo a pellavasi di odoro sic 4 5 43 virgil a eneid 6 670 44 della team stilic 3 così traduco degli antichi nel campo era costume cinger di quercia gloriosa e il fronte del valoroso che fugato avesse il suo nemico e un cittadin caduto sottratto avesse a inevitabil morte 45 silius italicus lib 13 abil onore o vincitor cingendo le tempi a tue della miura alturrita corona 46 elegia limb i 153 a te messala e sovra il mare e in terra pugnarsa dice onde le spoglie mostri la casa tua dei debellati in guerra 47 plutarco in marcello 48 trist 4 11 20 leggerà dunque ne trionfi il popolo i vinti capitano le città prese trdp mistro rigo 49 49 idem ivid vedrà carchi di ferrire precedere ad estrier coronati e baldanzosi 50 tibullo lib 1 e leg 8 lo porterà le burne o cocchio e gli aggiogati candidi cavalli 51 e mentre tu vivi trionfa esclami tutti ripeteremo trionfa vivi e arderemo odorosi timiami a fausti divi lib 4 2 trad gargallo 52 a te o giove ottimo massimo e a te giunone regina e a voi di ai tutti custodi e abitatori di questa rocca volonteroso e lieto io rendo grazie e supplichevole prego perché salva me co in questo giorno per le mie mani la romana repubblica e ben sostenuta abbiate a conservarla eguale siccome fate a favorirla e proteggerla benigni punto rosini antico romli bix capitolo 29 53 cicero in verre 54 lib 2 c8 55 san cirono i nostri maggiori pertanto che dove un reato militare si fosse da molti commesso si dovesse castigare a sorte in alcuni a ciò il timore a tutti la pena a pochi toccasse punto orat pro cluentio 56 il tribuno prendendo la bacchetta lievemente toccava il condannato allora quanti trovavansi nel campo chi con bastoni chi con sassi lo uccidevano punto 57 vitro 6 7 5 a gel 16 5 58 il vestibolo ancora è per mia idea detto da vesta invochiam lei venuti qui vi che i primiti e luoghi tal dea fast room lib 6 trad gb bianchi 59 parato prega sia fatto panza edile punto altri invece tradussero parato invoca panza edile con la prima versione che io pongo potrebbe rovesciarsi la supposizione generalmente fatta con la seconda che cioè la casa appartenesse a panza e farla ritenere invece come vorrebbe mark manier di parato perché non sarebbe credibile allora che parato sia si recato a esprimere il proprio voto precisamente sull'uscio di panza questi almeno per pudore non lo avrebbe permesso ma l'opinione di manier sarebbe tolta se fosse vero ciò che qualche archeologo sostenne che paratus fosse sinonimo di instituto dispensa tour dello schiavo cioè incaricato della vendita delle derrate del padrone non saprei in tal caso con quale autorità di scrittura antica a valorare quest'ultima pretesa 60 fabio euporio capo dei liberti invoca le dille cuspio panza punto pump antique east 109 61 già mi fan da padroni i miei vicini e quanto in casa mia si fa per entro dell'impluvio mi guardano at 2 st 2 62 e questa dea che chiamiam vesta credi essere null'altro che la fiamma viva fast lib 6 291 trgb bianchi 63 non anvesta né il fuoco e fighe alcuna i di invid v 298 64 a più vigore il rinnovato fuoco punto v 143 65 o disse infelicissimo consorte qual diramente o qual follia ti spinge a vestir di quest'armi ovetti a 20 misero tal soccorso e tal difesa non è dopo a tal tempo non s'appresso ti fosse anche e ter mio con noi piuttosto rimanti qui che questo santo altare salverà tutti o morem tutti insieme lib 2 523 trattino 528 tr caro 66 in aeneid lib 3 134 vedi aeneid 9 259 ev 744 67 ciascuno faccia i sacrifici secondo il proprio rito punto di lingua latina 788 68 non più ci vuol di tanto a far che trebio e rompa il sonno e corra con le corregge penso lon temendo che al bagliore delle stelle o sin da l'ora che dal pigro buti il freddo plaustro ricircolando volgasi l'intera salutatrice turba abbia già tutto del salve mattuti in l'orbe compiuto sat v 19 trattino 23 tr gargallo 69 lib 7 23 70 a ciò un luogo più recondito non desse a dito alla licenza 71 satiri canter 16 o questi disse e menelao presso il quale appoggiate il gomito punto 72 ad elf at 2 sc 5 stender per noi comanda e le ticcioli e da prestare ogni altra cosa 73 pist libidecimo 22 pur tra recinto di colonne fassi fronteggiar bosco e l'odasi magione che all'occhio apre di campi ampio prospetto trad gargallo 74 dinnanzi al critto portico c'è un sistole zante di viole il calore del sol che vi batte è accresciuto dal riflesso del critto portico il quale come mantiene il sole così vi scaccia e mantiene i venti boreali e quanto è il caldo che sia sul davanti tanto è il fresco che si gode di dietro esso arresta del pari i venti australi e così rompe ed oma i venti più opposti gli uni da un lato gli altri dall'altro a meno nel verno lo è ancor più nell'estate poi c'è prima del mezzogiorno il sisto dopo di esso lo stradon gestatorio e la vicina parte dell'orto sono confortati dalla sua ombra la quale secondo che cala o cresce il giorno qua e la cade or più corta or più lunga lo stesso critto portico non è mai tanto privo del sole quanto allora che il più coccente raggio di esso cade a piombo sovra il suo colmo oltre a ciò per le aperte finestre vi entrano e giocano i zeffiri nel luogo è mai molesto per un'aria chiusa e stagnante punto e pist lib 2 17 trad paravia 75 live trans x 14 76 vol secondo puntata 18. pagina 347 77 a marco lucrezio flamine di marte decurione in pompey punto 78 è ben inteso che qui si parla del diritto più antico in seguito queste leggi si vennero modificando ed erano già da tempo mutate quando a pompey toccò l'estrema rovina 79 fustel de culanges la città antico e live 2 ch 1 80 v di aulo gelio 4 3 valerio massimo secondo 1 4 e di unigidali carnasso 2 25 81 governo degli spartani 82 in solone 20 83 canto store degli italiani voli capitolo ventitresimo 84 live 2 la famiglia chap secondo le mariage pag 43 paris librarie a chat e c mille e 872 4 punto me edit 85 live 3 3 38 86 questioni romane 50 87 notti attiche 88 non merito è dunque o misleale niono o ingrato che da metinasca o bimba o figli o lin la gioggia intanto dell'educar e imprimerso registri le prove d'uomo prolificante è tua luscio in ghirlanda sei papà ti ho dato incontro a detrattor scudo e cimiero di padre i dritti ai già se scritto erede per me d'ogni legato orse capace ed fiscale caducità ti fiscale caducità ti ridi bene ancor giungerai molt'altri a questo di tre se arrivo il novero a fornirti sat 9 v 82 trattino 90 tr gargallo 89 lib 2 epig 92 90 epistolar ciplini i caecili i secundi lib 2 epig xcvi eid eyes venezia tip antonelli 91 fu consuetudine presso gli antichi che colui il quale passasse in altra famiglia avesse prima ad abdicare a quella nella quale era nato punto ad aeneid 11 156 92 perdita delle cose sacre 93 detestazione delle cose sacre 15 27 94 top 6 95 delle g bus 11 8 96 id id 11 97 sat v 289 e seguenti o la quel servo in croce e per qual fallo chi accusa chi testifica rifletti non tardasi mai troppo ove si tratti della morte d'un uomo è un uomo un servo ciocco è innocente e sia io così voglio così comando il mio volere è legge trad gargallo 98 dell'erostica 12 1 2 99 l'ingiuria fatta anche allo schiavo non si deve dal pretore lasciare in ulta punto 100 lib 6 39 che la testa a guzza e in moto tien sempre i lunghi orecchi al par d'un asino trad magenta 101 de clementia 1 24 102 milano e da elli e c mille e 863 nella biblioteca rara 103 oraz sat 11 6 66 avid fast 11 631 petronio satirican 60 104 quest'opera non fe barbaro artiere mangia tor di polenta punto plot mostellaria e 3 sc2 v 14esimo 105 sat 2 5 79 non raccapezzando mi sulla versione del gargallo mi provo io parca nel regalar della cucina assai più che di venere curante la gioventù si mostra 106 od 14 lib 2 ad postumum l'erede tuoque cecubi dissiperà più saggio che cento chiavi orservano del sole ignoti al raggio talvin facendo scorrere pe pavimenti alteri cui non spumeggi il simile ne salici bicchieri punto trad gargallo orazio dice nelle cene dei pontefici gargallo vi sostituisce i salici bicchieri il lettore sa vede tosto che il traduttore ha mutato il pensiero del poeta e la citazione nella traduzione non farebbe al mio caso i sali erano i dodici sacerdoti di marte che custodiva gli ancilli o scudi sacri mentre i pontifici aram bensì sacerdoti ma sopra intendevano alla religione dello stato e alle cerimonie di essa 107 od trense di cio libbi ad sodales compagni a divi consigliari cibi festivi i pulvinari tempo ed ornar punto 108 son citaredi a pulvinari degli dei e da banchetti de magistrati punto 109 cesare dittature nella cena del suo trionfo distribuì anfore di vin falerno nel banchetto e cadì di chio lo stesso nel trionfo ispanico larghe giochi io e falerno al convito poi del suo terzo consolato di evin falerno che io lesbio e mamertino punto 110 qui romuli i magnati e i tra beati cesare volle con le mille schiere che sedessero insieme a laute mense 111 i cibi a prestansi alla tua mensa in ore i piatti accolti trad magenta 112 se i ricchi napion dell'egitto a bella i conviti di roma o quei che tinge partico fuoco di ride si bella punto lib 4 e leg via trad vismara 113 così crebbe il numero dei versatili soffitti delle cene che d'un tratto l'uno appresso all'altro succeda e si mutino tanti quante sienole portate punto 114 frugan costor per gli elementi tutti come a pagare la gola né al capriccio mai d'ostacolo è il prezzo tr gargallo 115 a un pranzo union temendo nell'ugne il mantil recò via la tovaglia ermogene portò ip lib 12 29 trad magenta 116 a enid limb i 703 il caro poco fedelmente traduce con cerere alle mense gli aurati vasi e i nitidi canestri e i bianchissimi linea ran comparsi avremmo avuto meglio osservato il costume d'allora se avesse tradotto distribuiscono da canestri il pane e re can le tovaglie a cui ferra si i belli e avremmo appreso che le tovaglie potevano essere di pelli levigate ma i traduttori soglie un mirare più all'eleganza che alla precisione eppure volgarizzando dall'antico non si dovrebbe mai perdere di vista il concetto storico per quale anche i poemi diventano documenti di storia importanti giova il ripeterlo 117 piccanti rape e rafani e la tu che gli fè ancorona intingoli che stuzzicano lo stomaco impigrito e rambi acciughe carote ed acquerello di vincuro e serm 8 lib 2 trad gargallo 118 ne riporre speranza nell'antipasto però che è tuttora ho soppreso mentre per lo addietro soleva deliziarmi d'olive e delle tue salsicce punto 119 lucano vi allude nel verso qui pebi band tenera dulce isa barundi nessucos però che bevano gli indi della tenera canna i dolci succhi e domiziano di queste canne di zucchero ne fegitto alla moltitudine fra tante altre squisite cose 123 furono gli apici e tutti celebri per la loro ghiottornia il primo visse al tempo di silla il secondo sotto l'impero di augusto e tiberio e fu il più famoso e venne celebrato da giovenale da seneca e da plinio il terzo sotto traiano e rinomato inventore del marinar le ostriche delle quali mandava all'imperatore desideratissime giare quando quest'ultimo trova vasi a guerre giare tra i parti tanto impose l'abilità degli apic gerie che i cuochi si divisero persino in apic gerie danti apic gerie come trovasi menzionato in plinio il giovane 121 adesso poi il figlio insigne margherita già di metella dall'orecchio svelta in aceto stemprò mille migliaia per bere di sesterge in pochi sorsi satira 3 lib 2 trad gargallo 122 sorbiva preziosissime perle lique fatte con l'aceto punto 123 ne bevo meno e col olio e col vino sfidano le forze e giù cacciatili nelle svogliate viscere lo rimettono per la bocca e rigettano col vomito tutto il vino punto 124 negli archi volgarmente detti portoni di porta nuova di milano recentemente raffazzonati vedonsi tuttavia incastrate due teste antiche con iscrizioni che le donsi quintas novellius luci i filius vati a sevil qua e store caio novellio lucio fili i rufo fratri che ricordano adunque la famiglia novellio cui appartenne quel gran beone 125 vedine li vola alle misure dei liquidi il congio conteneva 6 sextari 126 michael mantile ermogenea cena non andò da cena col mantil sempre tornò ip lib 12 29 trad magenta 127 de arte amandi lib 3 v 207 trattino 2 112 quindi riparo alla figura offesa cercate che non è per gli usi vostri inefficace l'arte mia l'amante non miri apertamente i vasi esposti che l'arte a scosa giova alla beltade a chi non piaceria mirar sul volto stendere quella feccia e lentamente cader per peso suo nel caldo seno trad di cristoforo boccella 128 idem ibidem v 229 molte cose ignorarli uomini dell'anno di cui gli offendono molte se non copri ciò che fa dopo di tener celato idem ibidem 129 fa che pensare possiamo che dormi allora che tu ti adorni idem ibidem v 225 130 ciniflone saran gli schiavi incaricati di tingere i capelli soffiandovi sopra determinate polveri cinerari quelli che scaldavano nelle ceneri i calamistri o ferri da arricciare calamistri appellavansi anche gli schiavi che usavano di quel ferro per arricciare se cas finalmente le schiave che profumavano i capelli e ungevano dolgeri odorosi 131 idem ibidem 163 166 con le germaniche erbe a sconder pote la donna la canizie e può con l'arte miglior del vero altro cercar colore vanne la donna con la chioma folta per i compri capelli e col denaro in mancanza dei suoi compragli altrui idem ibidem 132 di scerniculum era il pettine che si usava per far la divisa dei capelli sin giù alla fronte 133 ex ponto 3 3 51 io la scrissi per quelle a cui l'onesta chioma non è dentro la venda inserta né lunga giunge infino al pie la vesta trad di gibbi bianchi 134 ling i v 31 gite lungi o vestali e voi matrone che i piacelate sotto lunga veste trad cristoforo bocella 135 e pin come leggiadramente era vestita e dorata e freggiata e che eleganza qual novità per if di che mai si vestiva forse della regilla o di mendicula impluviata come queste danno nome alle loro vestimenta e pin come va d'implovio vestita per if e maraviglia questo ti fa e non va molte intorno di terre ad orne 136 e pd qs e 2 sc 2 v 45 trattino 50 nuovi nomi al vestir trovano ogni anno e la tona cavalla e quella spessa e il linte o lo cesicio e l'indussiata la patagiata callola crocotola il su par la summinia oppur la ricca l'esottico il basilico il cumattile il melino il piumatile o il cerino ed al cane perfin tolgono il nome a prestanza e pin e qual mai per if quel di laconico 137 137 infatti v eran certi cani detti lei canso laconici come ce lo apprende orazio nell'ode 6 degli epodi nam quali sa utmo lo sum out full bus lei can era la laconica un genere di veste assai succinta lo stesso orazio rammenta la laconica sper più ras 2 on 18 138 sat v v 30 ratto che paventoso abbandonai la custode pretesta e dai su cintillari la borchia per il sacrai tr vink monti 139 certamente ecco desta effemminata moda il portarla tonaca di messa vergognate e femmina ti dico poenulus ecct quinto scv 140 dere rustica 3 13 quando mi trovava presso ortenzio nel territorio di laurento comandò venisse orfeo il quale essendosi presentato in lunga ruba stola e colla cetera ed avendo ricevuto l'ordine di cantare sono la tromba al cui suono fumo tosto circondati da si grande quantità di cervi di cinghiali e di altri quadrupedi che tale spettacolo non mi parve men bello di quello che danno gli edili nel grande circo quando si fanno le cace ma senza pantere punto 141 i campani gente molle e libidinosa punto trino mus act 2 sc 4 v 144 142 satira 6 v 130 143 carmen sedicesimo ad aurelio met furium traduco che il costume del poeta sia pudico a voi sol basti ma i suoi versi nessun vieta che esser possano men casti 144 v 1 e 2 thomas moore lavorò su di tale credenza un leggiadrissimo poemetto gli amori degli angeli che il cavaliere andrea mafei recò in versi italiani 145 profezia di osi capo 1 e 2 va prendi per moglie una peccatrice e fatti dei figliuoli della peccatrice punto traduzione di monsignor antonio martini del quale non è inopportuno riferire il commento con questo straordinario comando fatto al santo profeta di sposare una sordida donna la quale era stata di scandalo nella precedente sua vita il signore prova ed esercita la pazienza e la ubbidienza di osi e provvede alla salute spirituale di questa donna e principalmente indirizza questo fatto profetico a rinfacciare a tutta samaria il suo ombrobrio eccetera non c'è più nulla a dire 146 usi capitolo terzo v 1 2 or il signore mi disse va ancora ed ama una donna amata dall'amico e adultera e dio me la cavai per 15 monete d'argento e un coro di orzo e mezzo coro di grano punto trad martini il quale non si sgomenta punto del fodi a me commenta che per ritrarla dalla sua cattiva vitale da il profeta 15 sicli d'argento ed il resto e soggiunge questa non è la dote con cui egli si comperi costei per sua moglie però che egli non la sposò ma tutto questo si crede dato a colei pelvito di un anno e tutto questo messo insieme essi poca cosa che dimostra la vile condizione di essa e l'orzo serviva pel pane delle persone più meschine punto 147 così a puleio fa parlare la dea stessa io sono la natura madre di tutte le cose padrona degli elementi principio dei secoli sovrana degli dei mani la prima delle nature celesti la faccia uniforme degli di e delle idee io sono quella che governa la luminosa sublimità dei cieli i salutari venti dei mari e il cupo e lugubre silenzio dell'inferno la mia divinità unica ma moltiforme viene onorata con varie cerimonie e sotto differenti nomi i fenici mi chiamano la pe si inunzia madre degli dei quelli di creta diana dittina i siciliani proserpi naigia gli eleusini l'antica cerere altri giunone altri bellona ed alcuni ecate ed è di ancora chi mi chiama rannunzia ma gli egizi mi onorano con cerimonie che mi sono proprie e mi chiamano col mio vero nome la regina iside punto 148 trattato del sublime sezione decima pagina 25 edizione 1000 1000 e 822 soc tip dei classici italiani 149 tema il tuo grado scuotere buon bassareo non vuo né ciò che i sacri pampini celano al di trarreo il friggio corno e i timpanide frena il cui fire coi noi di noi medesimi desta amor folle e cieco e con troppo arduo vertice ne segue orgoglio il metro e se di arcani prodiga luci da più del vetro trad gargallo 150 la veglia di venere in occhi non provò mai palpito fine radaffetto in core domando dei di schiudere al più fervente amore giunta è la primavera cantiam che s'apre intera in primavera a esistere incominciato a il mondo gli amori ora s'accordano in nodo più giocondo melodiosi e belli s'accoppiano gli augelli dalle carezze l'albero delle piogge feconde tutto dispiega il nobile guaner delle sue fronde e degli amor la madre in fralombre le giadre dei bei boschetti splendere domani vedremo più bella intrecciari tuguri di rami di mortella e dal suo letto altero dione avrà l'impero 151 coro chi non provò mai palpito fine radaffetto in core domando dei di schiudere al più fervente amore le spiù dell'oceano fecero in tal stagione nascer commiste al sangue di un immortal dione del mar tra i nomi fieri e i bipedi corsieri coro chi non provò mai palpito fine radaffetto in core domando dei di schiudere al più fervente amore l'anno e la tinge in porpora veste di fior smaglianti delle sue poppe turgide pei soffii fecondanti di favonio ogni dove soave il latte piove versa le stille roride della notturna brezza tremule a lei le lagrime brillano per grossezza e sembra ogni or che cada la goccia di rugiada e la i color purpure idona al pudico fiore spremuto in ciel da limpidi astri il notturno umore le verginali spoglie alla dai mani scioglie saccopieran le vergini rose al suo forte grido dal sangue già di venere dal bacio di cupidonata e di solvestita di fiamma e margarita il suo raser che a scondere vuol nella veste ontosa l'invido nodo a sciogliere più non sarà ritrosa sposa e la pur fra poco il mostrerà di fuoco coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore per lei le ninfe volgono al bosco di mortella un bel fanciulle seguita se avesse le quadrella voi non lo credereste partecipe alle feste ite o ninfe nell'ozio amor larmi depose inerme e ignudo mostrasi siccome a lui si impose perché l'arco non tenda né colta face offenda pur rimanete in guardia o ninfe al vostro core senza armi ancor bellissimo come le avesse è amore e allora non vale scudo se si presenta ignudo coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore simili a te noi vergini venere a te ci invia noi ti preghiamo o delia vergine a ciò non sia brutta la sacra selva da sangue mai di belva solo di questo supplici noi ti muviam preghiera e la medesma a chiederlo verrebbe lusinghiera se a vergine fai ei decente qui ti vorrei a presente per tre notti continui gli spensierati cori scelti fra tanto numero coronati di fiori correr vedresti lieti pe tuoi boschi e mirteti qui sa rambacco e cerere e de poeti il dio noi veglierem tra i cantici se tale è il tuo desio di une alle foreste regni o delia celeste 152 e la si elesse il seggio sovra de fiori iblei recinta dalle grazie darà i responsi bei ibla da tutti i tuoi fior che produciano i 153 ibla la veste spoglia de fior che son tua cura per quanto lunga estende si dell'enna la pianura affaccina triste 154 qui saran forosette e montanine schiette quante ninfe soggiornano bosco foresta o fonte la madre della ligero nome le vuol qui pronte vuol che se nudo incede si neghia amor la fede coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore e fai e che di mani irradii del suo sorriso amico i nuovi fiori e lettere sposo alla terra antico che con le nubi ogni ora paterne le ristora si scioglierà benefica in sen dell'alma sposa onde nell'ampie viscere la vita rigogliosa saggita si commove a creazioni 9 dell'universo venere col soffio suo possente entro le vene penetra e n occupa la mente procreatrice eterna il mondo e la governa ella per i campi eteri in terra al mare in fondo il creator suo spirito infonde ovunque al mondo obbedienti a dita le sorgenti di vita coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore e la portò nel lazio i troiani penati di laurento la vergine del figlio univa ai fatti lei dal suo tempio tolse che sposa marte accolse di alle sabine vergini i romuli mariti onde i ramnesi uscirono uscirono i quiriti di romolo la gente e cesare possente coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore sentono i campi venere volontali feconda ebbe tra i campi il figlio di dianculla gioconda e crebbe ai delicati baci dei fior più grati coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore tutti si legano gli esseri col vincolo di mene sulla giovenca spingesi il toro ed ecco viene mosso da questa legge lungo i ruscelli il gregge vuole la dea di spieghino gli augelli i loro canti per le paludi stridono i cigni e i propri ivanti moduli invidiata di tereo la cognata 155 la voce sua melodica sarà d'amore invito nella sorella piangere su drappel re o marito taccio al canto gentile fin c'è verrà il mio aprile come la rondingarula allora canterò anch'io onde la musa a ridami e l'eliconio dio però che già amiche lea 156 s è colta cer per dea coro chi non provò mai palpito fainer d'affetto in cor domando dei di schiudere al più fervente amore 151 tradussi dione come nel testo forse più giustamente dovea dire dione a da dione che omero da per madre a venere esiodo la dice figlia dell'oceano e di teti e fa nascere venere dalle spiume del mare 152 delia soprannome di diana dall'isola di delo ove era nata vedi virgilio e blog 3 v 67 153 imbla monte della sicilia celebre per lo squisito miele che vi si raccoglieva due città sicule portavano questo nome aibla maggior e aibla parva sulla costa orientale le cui rovine vedonsi tuttavia in riva al mare i colli che la circondano lungo il fiume alabus sono in tutte le stagioni coperti di fiori di piante odorifere di timo e di sermolino donde le api tragono anche presentemente il più squisito miele già induce a credere che il miele di bla tanto vantato dagli antichi fosse raccolto presso di bla la piccola 154 n città in luogo eminente in mezzo della sicilia le praterie dei dintorni inframmezzate da limpidi ruscelli indorse di sempre verdeggianti boschi e di fiori odorosi erano considerate come il soggiorno prediletto di cerere fu in quella bellissima campagna che venne rapita la di lei figlia libera più nota sotto il nome di proserpina 155 etereo dice la mitologia fure di traccia figliuolo di marte e della ninfa bistoni ide ebbe per moglie promie figlia di pandione re di atene la quale dopo alcun tempo mostrò desiderio di rivedere la propria sorella filomela terreo per compiacerla si recò in atene ed ottenne da pandione che lasciasse partire se colui filomela ma invaghito se ne cammin facendo la violò in una casa pastoreccia ed affinché non palesasse il suo delitto le tagliò la lingua facendo credere alla moglie che la sorella era morta in mare filomela giunse però a poter disegnare sopra una tela la sua disgrazia e la fe poscia per mezzo d'una fantesca a progne per venire questa trasse astutamente la sorella dal luogo vera rinchiusa e secola condusse nella reggia indi per vendicarsi prese il bambino iti partorito da filomela e dopo di averlo ridotto in pezzi l'idea mangiare al padre terreo di ciò avvedutosi prese ad inseguire con i sguainato brando le due sorelle le quali furono dagli dei per compassione trasformate progne in rondine filomela in usignolo iti in fagiano etereo in upupa vedi avid met lib 6 mitologia di tutti i popoli vol 6 156 amiche lea o da micla città antica italiana che dissero fabbricata dai compagni di castore e polluce i cui abitanti astenevansi da ogni nutrimento animale furono distrutti dai serpenti dei quali abbondava il suo paese erano grandi osservatori del silenzio onde taciti li chiamo a virgilio taciti sregna vita miclis aeneid lib 10 v5 165 e qui pure nel per vigilium vien designata a micla ad essersi perduta col silenzio forse non avendo invocato soccorso a tempo quando era devastata dai serpenti 157 a placarla con suppli che voi chiama tutte il dover dipendono dal suo nome e onestà de e bellezza e buona fama trgb bianchi 158 vedi nel voli il capitolo ottavo i templi dove si parla di quello di iside 159 dei ladri e degli augei vigil custode punto 160 n 176 del catalogo del museo nazionale di napoli raccolta pornografica napoli 1866 stabilim tip in s teresa 161 arditi il fascino pagina 45 nt 262 vol 2 capitolo dodicesimo p 106 trattino 113 milano 1873 presso felice lagro editore 163 o mai palesi della buona dea fansi gli arcani allorché il flauto i lombi comincia a stuzzicar del corno al suono del vino all'estro di priapo attonite le menadi rotondo il crin volteggiano o quanta allora in quei cervelli accendasi libidinosa rabbia o con quali impeto guizzano scoppian sagitan vociferano del vecchio vin che ben vero qual circola acre vapor nel trasudante femore sat 6 v 314 trattino 319 164 v 346 trattino 49 ed or qualara del suo clodio è priva vecchi amici all'orecchio il nostro avviso già dato mi una volta ancor mi sona chiudila custodicila benissimo ma de custodi chi sarà il custode 165 a poco a poco te aggregheranno del bel numero uno qui che accerchia la fronte in lunghe bende e tutto avvolgono di monili l collo né penetrali lor con ampie tazze e ventraia di tenera porcella placar la buona dea ma quelle soglie con rito inverso or non avviene che tocchi pie femminile assoli maschi lara a presi della dea lungi opera fein alto sintona no che qui non gemme tibia ispirata da femmineo labbro talorge i batti usar frate de arcane solean stancando lattica cotetto id 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 trad di gargallo 166 via fuori qual vergogna salzi da l'equestre cushion chi non possiede l'equestre censo e de mezzandamore vi sottentrino i figli in qualsiasso nati porsi in costinci applauda il figlio del grasso bandi terra tra la ben nata da reziari giovinaglia e quella degli accoltellatori v 150 358 tr gargallo 167 è vecchia usanza o postumo ed antica far cigolar gli altrui letti e il santo genio schermir che a tala mi presiede v 21 trattino 22 168 lascio i parti supposti i godi i voti spesso appagati dal velabro o quante volte raccolti son dalle sue fogne gli ignoti bimbi sul cui falso corpo nome di scauri apponsi e poi ne ottiene suoi pontifici giove i salò ai marte capricciosa fortuna ivi la notte a quei nudi bambini volteggia intorno e con l'alito suo tutti gli scalda e in grembo se li avvolge allora tra gli alti palagi li dispensa e ne prepara segreta farsa se l'amor son questi questi son la sua cura e che si indetti figli delle fortuna e la gioisce sat 6 vv 602 trattino 609 169 nei quadrivi e chiassi punto carmeni bio ad coelium 170 amo ed odio insieme se chieda a me alcun come succeda io l'ignoro eppure il sento e ne provo un gran tormento carmene le xxxv mia trad 171 iam nex cderund vigilati furta suburre et mea nocturni strita fenestradolis per quam demisso quotiesti bifune pependi alterna veniense in tua colla manu e già i bei furti di suburra e il caro trescar notturno e il mio balcone per te socchiuso agli altri avaro ti caddero in obbligo il mio balcone donde alla fune appesa spesso verticale e con alterna delle mani offesa al collo tuo sbalzai trad vismara 172 pria della mensa è poca cosa assai ma il vin le dona mille grazie e mille 173 bianca e fredda a vedere ma tra i bicchieri un di goderne un di sfidarne a petto trad vismara 174 non più vezzoso ad occhieggiar qual fai o fra i spettacoli della scivo foro o sul passaggio di pompino e ne andrai ed ora innanzi non ti dar la pena di torcer suso il collo agli alti scanni 175 nella follata teatrale arena né per la via farai fermar l'ettica o aprir portiera onde ficcarvi il capo e parlottar con la passante amica ma pria di tutto fuor di casa fuori lidamo fonte d'ogni mal si venda e con i ferri ai pie serva e lavori 175 dissi già nel capitolo dei teatri come le cortigiane fossero nel quattordicesimo gradino del teatro citando all'uopo il satiricandi apuleio 176 amorum lib treleg 15 madre di amori teneri cerca navale poeta trad di francesco cavriani 177 che vidi incauto perché i fatti vollero che arcana colpa e il guardo mio scorgesse vide a caso a teone ignuda cinzia pur dei suoi cani pasto egli è rimaso trad di paolo mistro rigo 178 sopra la vita di publio video nasone discorsi discorso e 179 punito io son che un turpefatto videro gli incauti occhi son reo che gli occhi e bio trad di paolo mistro rigo 180 versi ed error due colpe mi perdettero id 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 181 fu sotade poeta di traccia che scrisse in verso ogni sorta di libidini e sembra che scrivesse in quel genere che i francesi chiamano poesie fuggitive e che in latino di consicommate cioè incise spartite così le chiama quintiliano e pare che a tempi di lui fossero conosciute perciò che egli proibisse agli istitutori di parlarne a giovinetti intitolavansi quelle poesie del poeta sotadecina edos per cui marziale lo chiama cinedo ed altri chiama ionico quel poema già che l'epiteto di ionico da vasi a tutto ciò che era molle e lascivo visse questo poeta a tempi di tolomeo che il fece gittare in mare entro una cassa di piombo 182 molti decarmi di catullo tengo da me volgarizzati inediti e però mi valgo sempre per questo poeta della mia traduzione non edita per anko donna non fu che tanto amata fosse come or tu da me né mai servata quanto da me lo fosse la giurata fe lesbia or tu e me hai condotto fossi pur buona a più non ti stimare né sanco più corrotto tu avessi il cor ti lascerò da mar 183 abbastanza io fui la favola delle mense scioperate e di me ciascun feridere a sua posta le brigate tr vismara 184 sat 2 limb i face il venere e pronta amo e colei che ti dice fra breve e e fai ai maggiore la voluta se partirà il marito mi son sostituito nella traduzione al gargallo che questa volta non ho proprio capito che dir si volesse 185 sat i lib 11 canidia figlia dal buzio a suoi nemici erbe e veleno tr gargallo 186 irritabil genia quella dei vati punto ora 187 il diritto dei tre figli mi diede dei miei studi poetici in mercede chi poteva darlo addio consorte vanno il don sortir non dei del mio sovrano trad magenta 188 la prostituzione delle muse 189 or la misera fame ed i sottili distillati veleni entro le dapi tutto un popolo esangue e amici pingui per ricchi funerali ed un impero che sotto il nome della pace infinto molle mente si solve e si consuma quanto fa dir la nostra età la bella età dell'oro canterà le muse e canteranno i lagrimosi incendi della marmorea roma 190 agli occhi loro vaghi sollazzi della negranote e grege gesta di colui che baldo dell'assassinio della madre esulta che alle furie materne altre ne oppone alle serpi altre serpi ogni or la mano pronta a nuovi pugnali e di peggiori stragi a far tutto esterrefatto il mondo canteranno esse scellerati carmi o scene voluta sozi i menei d'un favorito della sposa infami 191 di venere ne fan di monumenti nell'onta proverande loro canti le svergognate muse e di loro nome virginal di loro fama immacolata fatte in memoria adesso a via gittato ogni padre sotto color bugiardo di loro seiver prostituire se stesse e le figliuole dell'olimpio giove sovra gli umani e celse ancor che nulla senta necessità fanno a vil prezzo di loro sacra persona in più mercato e se al capriccio dei superbo mena 192 pigancodarde ovver di policleto obbedienti al cenno anco beate desigualode appassionate ardenti delle recenti impronte onde una fronte vammacolata o delle rivestigia che lasciò la catena od il flagello a un getta 193 che da già fatto è liberto in memori che più del divo padre e dei nomi cognati e dell'antico one r di casta e virginal pietate o dolore alle furie e a mostri orrendi hanno eretto l'altare e i cenni impuri dell'ignobile tizio 194 osano voci del destino appellare quanto all'olimpo consacrarono all erebo già templi osaron scellerati ergere e dar sacri leghe e per quanto è di lor possa i cacciati dal cielo empi titani tentan riper nelle superne sedi e stolto crede a loro accenti il mondo 189 con una sacra indegnazione e con maggior calore per avventura di persio turno vissuto sotto il regno di nerone e vecchio sotto quello degli imperatori di casa flavia compose satire che quello imperante stigmatizzarono a fuoco volsi che le sue composizioni non pubblicasse fin c'è visse quel tiranno ma se ciò fosse sarebbe stato minore il suo coraggio né di lui avrebbe marziale potuto dettare il seguente epigramma contulita satira singenzi a pectora turnus kernon ad memori scarmina freiter e rat turno piegò l'ingegno suo sovrano al satirico stil perché di memore non i versi emular gli era germano epigr lib 11 11 tr magenta data l'epigramma apprendiamo a dunque che turno fosse fratello di un memore poeta tragico come nel precedente epigramma lo stesso marziale lasciò ricordato clarus fronde jovis romani fama coterni del romano coturno illustro e cinto della fronda di giove i db 10 l'unico frammento rimasto delle satire di turno è come di sì codesto che traduco taloni vollero perfino attribuirlo a lucano mai più lo assegnano a turno 190 è chiara in questo verso l'allusione all'incendio di roma avvenuto sotto il regno di nerone il quale ne fu ritenuto autore 191 sono note le pazze e infami nozze di nerone con sporo celebrate pubblicamente in roma questo verso ricorda quello della sat 2 di giove e nale dai vse rit magno que dormit tertia lecto sposa che in ampio letto terza a dormire ad attisi e fai ai ricca v60 trad gargallo 192 mena fu liberto e favorito del giovane pompino fu vanitoso sino al ridicolo e di sua perfidia andò famigerato nella guerra di augusto e di sesto pompino orazio lo verteggia in una satira morì nella guerra che ottavio sostenne contro gli illiri 193 gheta e altro favorito che eccitò sotto nerone una sedizione a roma di lui parla tacito nel lib 2 capitolo 72 delle storie 194 tizio cavalier romano preposto a guardia di messalina di lui pure fanno menzione gli annali di tacito lib 2 capitolo 35 195 lib 7 ip 21 196 lib 7 ip 24 197 lib 12 18 198 198 198 etudes de moors et de critiques sur les poites latens de la decadence md nissard bruxelles 1834 199 ascondere consegni intelligenti i lusinghieri accenti 200 si ai si proca elio libidini amori adulterii banchetti e commessazioni punto 201 i bagni i vini e venere riduco l'uomo in cenere a mortali gradita fan non di men la vita 202 vuoi tu forse chi osserva infracodeste procede e avanzi dali carie amiche apana tier sciopate e infette serve poenulus poenulus ect i sc2 v53 55 noti il lettore come plautosi della parola scoeno invece di coeno come dai sabini si usava allora a sostituire nella pronunzia la s al c così scoelum per coelum scoena per coena la medesima cosa si fa oggi di in alcune parti d'italia e massime in toscana 203 la blitea è una sporca meretrice la qual non più ut che divino 204 il comico latino che di queste femmine se ne intendeva nella già citata commedia del poenulus non dimenticò la scorta di obolaria che retribuiva si di due oboli che è la stessa moneta del dupondium ea si fatte sciagurate accenna pur seneca nel lib 6 controversiarum in quel passo itane decemiuven esperierunt propter dupondius duos 205 argi ripo non sono morto affatto ancor mi resta qualche poco di vita e quel che chiedi ancor darti possio ma darò solo che tu rimanga in mio possesso e sappia che un anno intero tu mi serva e intanto presso di te nessun altro tu ammetta claretta e se tu il vuoi quanti ho in mia casa schiavi e virerò ma se davermi brami il singrafo mi reca e come chiedi e come piace a te dettane i patti ma insieme portami il prezzo agevolmente il resto accetterò sondile non i pari alle porte dei gabellieri sapron se paghi se no restan chiuse 206 diabolo fra me l'amica mia e la mezzana leggine i patti però che poeta in codesti negozi unico 6 sul via mostrami il singrafo che hai scritto 207 pag 70 milano edoardo sonzogno editore 1872 non so trattenermi dal riferire un tale contratto simile in tutto a singrafi di fedeltà di cui sopra è parola costanzo il procuratore il secondo notaio pro presto alessandro quei patti obbligatori state ad ascoltare glos ascolto eius in cristi i nomine amen millesimo quingentesimo quinquagesimo primo pro et ci vieni al merito lascia stare le clausole generali eius emme costanzo figliuolo di emme massimo caraccioli parte una e madonna andriana da spoletti parte altera omnibus modis et ci etiam con consentimento di madonna dorotea sua figliuola tutti presenti e che accettano volontieri et ci son divenuti agli infrascritti patti vi delicet che la detta donna andriana lascerà madonna dorotea sua figliuola al detto emme costanzo un anno intero da star seco di e notte gos a lui solo e non ad altri pro pro gliel'aggiungo io presto alessandro gos si in ogni modo vedete di grazia di imbrigliami si bene questa sina non le voglia il trarmi de calci pro udite pur seguita eius e che nel detto tempo non metta in casa nessun amico parente o innamorato suo antico moderno immaginario quovis modo gos se non me solo pro intendo che non dicesse poi che siete escluso ancor voi passa oltre eius non ricevi né man di lettera non abbi in casa carta e inchiostro per scrivere non tengi ritratto degli innamorati vecchi e passato il terzo giorno gli sia lecito impune e de facto a bruciarli non vada a festa a banchetti né a chiesa non inviti nessuno a mangiare non stia in porta non facci trebbe non guardi giù dalle finestre non oda cantilene o sospir di gente che passi per la strada e sia lecito al detto m gostanzo di chiuder le porte e tenerle chiuse quanto gli piace senza alcuna replica gos o mi piace o come va bene pro aspettate pur seguita eius gos levi tutte le occasioni di farlo sospettare non calchi il piede a nessuno non tocchi la mano non pizzichi non si levi non si muova gos piano anzi voglio che la si muova e scherzi meco in camera pro con altri con altri con altri si intende gos passate oltre eius non alzi un occhio non starnutti non fiati senza suo consentimento non rida dietro alla finestra a nessuno non si lasci baciar la mano o veder gli anelli non facci cenno non motteggi non guardi non mostri di tossire quando è sforzata non faccia vezzine favore a nessuno di più non si finga ammalata per farsi ungere stropicciare e sia lecito al detto m gostanzo durante il detto termine per qualsivoglia minima occasione di gelosia che la gli dia chiuderla detta dorotea in camera in cucina in sala di sotto di sopra e in qual parte più gli piacerà della casa comodo cunque et qualiter cunque et e la accetti ogni cosa per bene gos benissimo ma voi mi lasciate il meglio e più importante pro che cosa gos preti fratti scappocini guastallini pinzoccheri chiettini giovanelli riformati gabbadei zoccolanti colli torti né per confessione né per visita né per altro non mettano il piede in casa sotto alcun pretesto pro buon ricordo per mia fe presto alessandro gos aggiungeteglielo in ogni modo perché non sono al mondo le noni più vehementi di queste canaglie pro mi meraviglio che la somma orlandina non ne faccia menzione dove ho cavato questo estratto hai spedito alessandro seguita eis e che nel sopradetto termine la detta andriana non abbia alcuna autorità in casa ma si stia chietta e goda e taccia e t'attenda solamente a covare il fuoco cuocer castagne bervin dolce sputarne la cenere e seppur vuol gridar gridi alla gatta solleciti il desinare e si faccia legger dal ragazzo qualche leggenda del resto lasci il dominio della casa in podestà del detto m gostanzo sotto la pena di non ber vino e di esser staffilata o l'arbitrio del detto m gostanzo gos o buono seguita eis dall'altra banda sia obbligato il detto m gostanzo numerargli subito senza alcuna dilazione 60 scudi d'oro dei quali possono disporre a loro modo senza alcun obbligo di restituirli gos andiam dentro 208 il pastor coridon d'alessi ardea d'alessi bel fanciul delizia prima del suo signor e gloga 2 tr di prospero manara 209 vedi giornale degli scavi nuova serie numero 13 mille e 870 210 ne già di lei che nu da il pie calpesta l'aspra selci è miglior l'altra che l collo preme da siri letti gher giganti satire 6 350 tr gargallo 211 lippomane gli incanti i beveraggi col chi ci dovrò dir sat 633 tr gargallo 212 porgi l'acqua fredba o ragazzo punto notisi il freedom per frigidam quanto stia la no 212 1 1 2 2 3 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.